Pertina Lorenzo Insigne Prima uscita stagionale per il Napoli di Mazzarri che a Di Maro incontra la rappresentativa Trentino sotto un sole molto caldo la squadra di Mazzarri fa assolutamente fatica il primo gol viene salda a cross di Vargas che trova la testa di Lorenzo Insigne e al ritorno a Napoli firma subito il primo gol su questo cross ottimo di Edu Vargas lo stacco è altrettanto ottimo incrocio sul secondo palo sempre nel primo tempo poi il Napoli sfrutta un rigore di Amsic che è fortunato prende il palo poi sulla schiena il portiere del Trentino insacca il 2 a 0 il terzo gol arriva sempre da Insigne che su palla ottima di Amsic dentro col sinistro incrocia e firma il 3 a 0 il quinto palo della partita del Napoli e poi dal limite dell'area raccoglie l'assist di Gemaili e sempre di destro insacca il 7 a 0 momentaneo alle spalle del portiere del Trentino poi Insigne uscirà ci sarà spazio anche per Pandev che una volta entrato manda subito a rete il giovane Ferlito con questa ottima palla sempre da Gemaili palla dentro per il giocatore della primavera napoletana che incrocia di sinistro sul primo palo e a chiudere le marcature ancora lo stesso Pandev che sul lancio lungo sfrutta questa papera del portiere della rappresentativa Trentino e insacca il 9 a 0 finale